Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di essere nuovi, lasciate l'hashtag Brawl Stars con sotto i commenti per ricevere un cuocino Lasciate al nostro disco al pubblico e passate dalla nostra pagina di Twitch Oggi perché c'è questo secondo video? Perché andremo a vedere insieme i 4 nuovi gadget di questo aggiornamento E in più volevo informarvi che praticamente sulla pagina di Twitter ufficiale di Brawl Stars troverete un sondaggio dove potrete votare qual è il vostro gadget preferito che vorreste prima Ma andiamo avanti che andiamo a vedere come funzionano e poi vi invito anche a giocare qua sotto con me nei commenti e a dirmi di quale team fate parte con l'hashtag che vedrete subito Come al solito ragazzi vi ho creato una grafica molto intuitiva, andiamo a vedere insieme i primi 2 gadget di questo video Partiamo da quello della Bea che si chiama Api Pestifere in italiano e che cosa fa? Rilascia 3 api arrabbiate che girano in circolo allontanandosi da lei, togliendo appunto più danno più si allontanano dal punto di partenza Fino a un massimo di 1000 danni Invece quello di Beryl che cosa fa e come si chiama? Si chiama Spargitracce e Beryl crea un'area di rallentamento intorno a sé per 4 secondi Molto interessanti ragazzi Se volete votare per Bea mettete l'hashtag team Bea qua sotto nei commenti Se volete votare per quello di Beryl l'hashtag team Beryl Ma andiamo avanti Andiamo a vedere gli altri 2 gadget di questo video Partiamo con quello di Nita sulla sinistra Si chiama in italiano Pelliccia Sintetica E per 3 secondi, da quando viene attivato L'orso di Nita prende uno scudo che riduce i danni ricevuti del 35% Veramente molto interessante Poi quello sulla destra invece è di Semino Che cosa fa e come si chiama? Si chiama Sradicatore E permette a Semino di distruggere il suo attuale cespuglio piazzato quello con la Super ragazzi E di recuperare direttamente la carica completa della Super Quindi poter tirare un altro cespuglio Molto interessante Per poter votare appunto il gadget di Nita Team Nita Quindi hashtag team Nita nei commenti Se volete invece votare quello di Semino Hashtag team Semino Sempre qua sotto nei commenti ragazzi In descrizione ragazzi trovate il link dove troverete appunto il sondaggio Su Twitter ufficiale di Broostarts Per votare qual è appunto il vostro gadget preferito Mi raccomando Arriviamo a 2.000 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se noi lasciate l'hashtag Broostarts Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino Passate al nostro disco al pubblico Passate alla nostra pagina di Twitch E ci vediamo in un prossimo video Ciao